buongiorno bella gente ma buongiorno mi sono perso un attimino stavo ero sovra pensiero sovra pensiero buongiorno buonasera buonasera bella gente ciao a tutti ragazzi ultima ultimissima diretta della settimana in assoluto poi fino a lunedì non ne parliamo più a meno che a meno che non vinciamo domani sera domenica mattina si fa una breve direttissima per commentare vince però vediamo poi domani sera che cosa succede intanto comincio a salutare poi andiamo a vedere la tecnica vediamo questa tecnica con i due ambi secchi vediamo sperando che sia vincente come l'ultima che ho presentato che ha dato subito l'ambo secco allora iniziamo con il salutare mano mano che entrate mi metto gli occhiali se no poi vi perdo se no poi vi perdo allora piano piano arriva la notifica ciao piera buonasera anche a te daniela ciao bella gente paolo ciao benissimo sono contento tentiamo la ruota e vabbè è uscito a ruota poi vediamo che cosa è successo questo mese in quattro estrazioni che cosa è uscito lo vediamo stasera dai ciao alex scusate la mia tosse antonella ciao di ma ciao buona serata anche a te alfonso stefania buongiorno piano piano arriverà la notifica sto fermo col telefonino mi posiziono anche se come ho già detto è queste dirette qua ormai cominciano a essere scremate perché siete tutti a spasso in ferie in giro quindi ci saranno chiaramente meno collegamenti ultimamente per un mesetto un mese e mezzo poi da settembre ritorneremo alla normalità ciao stefania ciao renzo grazie renzo grazie mille di cuore grande ciao angela buona serata anche a te ciao 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 bella gente allora questa sera intanto vediamo una una tecnica con due ambi secchi un'ambata sempre su due ruote ha dato dei bei risultati vedrete la particolarità della tecnica c'è ancora una particolarità che poi vedremo quando ricaviamo la previsione ciao birbantella ciao fa caldissimo anche qua cuneo fa caldo birbantella anche qua vogliamo la pioggia anzi speriamo di no la grandine pensa chi ha i raccolti che gli distrugge il lavoro di un anno distrugge il lavoro di un anno quando grandina si spera di no ciao rosi william ciao nello eccolo qua ciao pochi ma buoni o si assolutamente poi pochi di cancola siamo già quasi a 70 quindi per realtà siamo abituati a dirette da 400 persone in diretta però chi c'è c'è chi non può vedere le vede in seguito è importante che le vedano ciao svegliana buona serata anche a te ciao maria carmine eccolo qua ciao ciao bella gente ciao brava gente bella gente ciao ciao guerino eccola qua Mirella ciao buona sera a te buona sera a te Mirella ciao aspettiamo che entrate ancora un po scusate mi giro con la sedia sono già male al braccio la vecchiaia cristina ciao roberto chiara eccola qua ben ritrovata anche a te ben ritrovata a tutti ragazzi siete fantastici siamo a 6.000 sapete che la prossima settimana è una settimanola di regali di tecniche super tecniche una tecnica ciclometrica non la classica sommativa che vi presento una tecnica ciclometrica come 45 plus ma ancora qualcosa di più che quello lo vedremo la prossima settimana la sto preparando ciao maurizio maria e be ciao aurora mi dispiace mi dispiace che non è giocato ciao chiara sei pronta a fare i conti va bene poi vedrai preparati e pronti patrizia ciao anna maria orai massa fra ciao maria ciao claudia ci ciao anna come mai sei triste anna non deve essere triste su con la vita non si fa la vita è bella non essere triste assolutamente ciao franco domenico ciao marisa ciao buona serata anche a te grazie del cuoricino ciao rino ciao e non lo dire a me e beh dai c'è tempo a vincere sei tranquilla non ti preoccupare vivi serena che abbiamo tempo a vincere tante altre volte ecco è così che andiamo in ferie ma perché no speriamo di sì speriamo di sì io ce la metto tutta lo sapete più voi vincete più sono felice più vincete più sono felice quello in assoluto ce la metto tutta per fare vincere più sovente possibile ma purtroppo sono numeri ogni tanto ci prendono diciamo anche in giro fa parte del gioco è è come nella vita no quegli alti e quei bassi anche qua ci sono momenti in cui ci sono più vincite importanti momenti in cui meno importati e stazioni in cui non si vince succede anche quello è chiaramente pur avendo tante giocate in corso guardate mi ricordo sempre quando 35 anni fa scrivevo per l'otto più l'otto mio il direttore del giornale ferrara ci sentivamo sovente per telefono non c'erano ancora whatsapp e compagnia bella non c'è ancora neanche internet quindi parliamo degli anni 90 e il direttore del giornale calcolate che sull'otto più tra l'otto più rotto mio allora parlavamo di 200 previsioni 250 tra le previsioni dei collaboratori più le previsioni quindi bene o male e mi ricordo che mi aveva detto no ma dimmi tu se sembra possibile con 200 previsioni rotte non è uscito niente in questa estrazione ma non ci credo non è uscito niente in un'estrazione quindi come vedete non è importante quante previsioni sono e la bontà delle stesse quindi anche giocando pur tre o quattro giocate o cinque che sono in corso come adesso può anche succedere che non ne esca nulla allora ciao giuseppe marco rosa ciao ma esatto chiara è proprio detto giusto poi parliamo di un gioco aleatorio come tutti i giochi è anche perché se andiamo a pensarsi bene no ci ragioniamoci sulla cosa no max il mio cognome maria questa me la devi spiegare non la capisco mi pazienza sono un po te ritardato non me la devi spiegare comunque lucia prontissimi fra un po andiamo a vedere la tecnica allora ciao attilio bisogna calcolare che ragioniamo su una cosa essenziale ogni volta a ogni estrazione le palline vengono inserite nella venus e si riparte da zero ok quindi le probabilità che i numeri escono sono le stesse per tutti non cambia assolutamente nulla quindi è già veramente un'eccezionalità il fatto di ottenere questi risultati poi ho già detto in più nella diretta quando si giocava una stazione solo alla settimana pensare di ottenere queste vincite nell'arco del mese o quasi tutte le stazioni era impossibile sarebbe stato un plus ultra quindi ragioniamo che tutto sommato parliamo sempre sempre solo comunque di probabilità mai di certezze ciao Mirella Tommaso ad Elio ciao Gian Davide ciao il mitico Elio Ferra assolutamente assolutamente è assolutamente un mitico davvero l'otto più l'otto mio sono delle bellissime riviste in assoluto ci ho scritto per quasi vent'anni quindi calcolate Manu ciao Maria Carmelo Cleglia Piera ciao buona serata un bacione Corrado eh se scendeva ruota si cavolo sarete su Genova invece che su Milano grazie mille Corrado Donato ciao là siamo quasi a 200 quindi potremmo quasi quasi andarci a vedere la tecnica siete pronti? Via! Andiamo a vedere la tecnica andiamo a vedere prima della tecnica cosa è successo ieri sera o andiamo a vedere la tecnica prima? Andiamo a vedere prima la tecnica? Sì? Andiamo a vederla va Andiamo a vederla Allora 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 Tecnica del 9 luglio Tecnica del 9 luglio Prendiamo in considerazione il secondo estratto della ruota di Bari Della quarta estrazione del mese che è quella di ieri sera Lo sommiamo al fisso 40 Per i guambi secchi Allora qui ho inserito l'estratto determinato in due posizioni Perché non c'è altro modo Però so che qualcuno di voi ama questo gioco Quindi io sapete che sono resti a dare due posizioni su due ruote Perché poi alla fine si guadagna un po' come vincere l'Ambata Però tutto sommato per chi vuole farlo può farlo Non è un obbligo assolutamente Le previsioni si gioca su Bari Genova per sei colpi Anche se ecco qui il consiglio di ambetto tutte è la nazionale Cioè ho avuto dei commenti Qui mi faccio vedere Allora Niente di che Ci sono stati dei commenti sul canale Ma avevi detto che si giocava solo su Milano Da sempre Da sempre Allora o quando Io non parlo per tutti voi Parlo per chi mi ha scritto il commento Quelle due o tre persone Avesse fatto solo Sono state due o tre persone che l'ha fatto Quindi Dico allora State attenti Perché potete andare a vedere tutti i video Io lo dico sempre Anche sui fogli Dove scrivo le previsioni C'è sempre scritto Ambo ambetto Tutte è nazionale Tutte le volte Può darsi che mi sia dimenticato di dirlo una volta Io sono andato a vedere il video Non è quest'ultima volta che mi sono dimenticato E' sempre scritto E lo dico sempre Quindi Chiaramente Fate attenzione A quello che dico Ok Allora Andiamo a vedere La statistica della tecnichetta Andiamo a vedere Allora La ripetiamo ancora una volta Per gli ultimi entrati Secondo di Bari Quarta del mese Più 41 ambata Più 65 5,72 sommati all'ambata Si ottengono i due numeri Per formare i guambi secchi Per il determinato In seconda e terza posizione Bari Genova Le due ruote Ok Consiglio Il gioco di ambetto Tutte è nazionale Andiamo a vedere la statistica Allora Dicembre Terzo colpo Ambata 25 Più ambetto 25,1 Su Genova Gennaio Ambata Più ambo secco 38,20 Su Genova Febbraio Ambata Determinato E ambetto Marzo Ambata Determinato Ambo secco Aprile Ambata Determinato Ambo secco Maggio Ambata Determinato Ambetto Giugno Ambata Determinato E ambo secco Allora Guardate bene sta roba In sette mesi Ha sempre centrato O l'ambo secco O l'ambetto Preso esattamente Due Tre Quattro ambi secchi E tre ambetti In sette mesi Ha sempre vinto A ruota E per cinque mesi Ha centrato La tripla Vincita Ambata Determinato Più ambo O ambetto E' fantastica Fantastica Qui non c'è una vincita Tutte Non c'è un mese In cui non ha dato L'ambo secco O l'ambetto Ok Quindi veramente Una bellissima tecnica Mi auguro davvero di cuore Che anche questo mese Ci dia una bella vincita Me lo auguro davvero di cuore Ok Allora Intanto andiamo a vedere Saluto velocemente Allora Eh Luisa Rita Dima Bravissima Bravissima Poi ci sarà qualcun altro Che l'aveva inserito Ma Eh Ok Vediamo un attimino 45 20 27 Ne hai sbagliato un pezzo Dima Non è così Antonella Hai anche sbagliato Avete sbagliato un pochettino tutti E qua Oi 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 O ho sbagliato io a scrivere la previsione O avete sbagliato voi a farlo Voi mi date una giocata Adesso poi andiamo a vederla Ho sbagliato io Avete ragione voi Ho sbagliato io a scrivere Allora Poi andiamo a vederla un attimino Mi son toppato io È giusta quella 45 20 27 In assoluto Eh Sì Allora Poi ne parliamo Andiamo a vedere esattamente il tutto Perché c'è una ruota principale Delle due Quindi andiamo a vedere insieme Qual è poi la ruota principale Non scappate Qual è successo Egli sera 69 45 A colpo Eh Il 69 45 A colpo Uscito su Genova Della previsione su Milano Quindi la giocata è chiusa Eh 12 13 Ambo secco Con il ritardatario Su Cagliari Eh Dal calcolo vincente È uscito l'ambo secco Su Cagliari Andiamo a vedere intanto Mi sono ancora arrivate Delle Giustamente Vanno fatte vedere Allora Buongiorno Bella gente Ciao Massimo Ti vi occupo Proprio scontrino Per Ambo A colpo Anche il 62 Guarda scontrino Comunque gioco gratis Sabato Perfetto Eccolo qua 45 69 Ciao Massimo Queste sono le mie vincite Tutto grazie alla tua bravura No Grazie a voi che avete fiducia Nel giocare le mie previsioni Qua c'è solo la bolletta vincente Poi Ciao Massimo Sempre avanti positive Altro colpo su tutte Le tue visioni sono top Paolo da Savona Grazie Paolo di cuore a te Grazie Paolo di cuore a te Vinto poco ma meglio di niente Si vede di meno Ma comunque c'è Questa è bellina Il capo sempre ha ragione Grazie per il capo Non ci tengo a essere un capo Non ci ho mai tenuto Capo d'Uc Allora Ciao Massimo Prenso Ambo Primo colpo su tutte 69 45 Dalla tecnica plus Lambata 29 Dalla 45 plus Massimo Grazie davvero Primo colpo su tutto Antezzanità Da poco Meno di due settimane Ti segui Dalla seconda volta Che vinco Qui grazie di cuore Le due vincite Il 29 E il 45 Ciao Massimo Grazie poco ma recupero spese Buona serata Marcella Grazie mille a te Marcella Grazie a tutti i ragazzi Per le testimonianze Ma Ho detto prima Quella vincita di ieri sera Martedì 6 luglio Chi ha abbonato Il calcolo vincente Ha centrato Il 25 A Roma Come è stato determinato Poi Sabato 3 Regalato a tutti Il 17 Al quarto colpo Come ambatta secca E Dulcis in fundo Tra vincita Anche qui C'è stato un commento oggi Adesso non mi ricordo più Di chi è E che mi ha detto Quando è che fai fare Una vincita di massa Vabbè Più che l'81 86 85 Che è uscito Al primo luglio Quindi parliamo di 4 stazioni fa Una settimana fa Giovedì scorso Ok Più che così Eh Se non è una vincita di massa Questa In assoluto Non ce ne sono più Eh Parliamo solamente Di chi me l'ha inviato Di una settantina Di scontrini Di una previsione Regalata a tutti Che ha dato Ambo secco Ambetto E ambatta Al quarto colpo di gioco Eh Quindi Più che così Se non è una vincita di massa Questa Non ce ne sono più Perché poi In molti Anzi Suppongo moltissimi Anche perché Se i miei video Venivissi mediamente Da un diecimila persone Per il momento Eh Tutto sommato Arrivano A quei livelli Vuol dire che In qualunque caso Penso che Siano più di settanta Le persone che hanno vinto Però Chiaramente 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 Non tutti Mandano gli scontrini Eh Ok Allora Vediamo un po' Questa previsione Qui ho sbagliato Questa volta Ho sbagliato io Aspettate che prendo Il pennarello La Modifichiamo Qui ho sbagliato io Ho sbagliato io Lo cancelliamo E 20 E 20 E 20 Eccolo qua 45 20 45 27 Eh Poi non vorrei che uscisse poi il 16 Un errore in buona fede Come i miei soliti Ogni tanto mi succede A forza di dare i numeri Due numeri sul serio Allora Bari principale Perché Bari principale Perché Dall'ultima estrazione Se vedete Il 45 Genova è già presente Prima che poi qualcuno Me lo chieda nei commenti Eccetera eccetera Ok Allora Con le tecniche sommative Non ha nessuna importanza Che il numero Sia presente Nell'estrazione Questo vale Per le tecniche ciclometriche Statistiche Matematiche Eccetera Le sommative Non hanno questa particolarità Quindi La giocata vaida Però Onde evitare Io considererei Principalmente Bari Perché poi Guardate cosa È uscito qua No 46 45 44 Abbiamo una formazione Dove Il 44 46 L'intermedio Di nuovo Il 45 Quindi Me lo riporta Me lo riporta Abbiamo un triangolo 44 45 46 Che può riportarmi Il 45 Che è l'intermedio Dei tre Ok Quindi in molti casi C'è una ripetizione Però Visto che a Bari Non è uscito Puntiamo principalmente Qualcosa in più Su Bari Ma giochiamolo anche a Genova Perché può ripetersi Tranquillamente È più facile Che si ripeta Un numero appena uscito Che un ritagatario Che tagga Da 130 Stazioni Questo lo sapete Già benissimo Ok Quindi 45 20 27 È la previsione Di questa tecnica Per sei colpi Anche se Dalla statistica Come vedete Sono usciti Quasi tutti Nei primi quattro colpi Di gioco Anzi Nei primi due o tre colpi Quindi L'unico caso A sesto colpo È quello del mese scorso Di giugno E quindi Vediamo che cosa succede Ok Mi raccomando Vale sempre Il gioco A bombetto Tutte nazionale Così l'ho detto L'ho detto Allora In gioco diversamente C'è ancora Questo 37 Benedetto Ok Col 59 Il 69 Che è ancora in gioco Poi abbiamo I due ambi secchi Il 62 82 Su Roma Torino Ambo Ambetto Tutte nazionale Il 79 9 Venezia nazionale E Dulcis in fundus Per chi gioca L'è stato determinato Il 32 Su Milano Nazionale Che è ancora in gioco Sta per chiudersi Ma è ancora in gioco Ok Poi facciamo Gli aggiornamenti Lunedì Bene Allora Per chi vuole contattarmi Qui c'è il mio Capito telefonico Potete scrivermi Tranquillamente Su Whatsapp O su Telegram Ho ricevuto Un commento Oggi Ti ho provato A contattarti Su Whatsapp Qualcuno prova A chiamarmi C'è scritto Grande grande Mi sembra Scrivetemi Non telefonatemi Perché Non ho il tempo Di parlare al telefono Ve lo dico subito L'ho già detto In miliardi di modi Però Lo ripeto ancora Non si sa mai Magari qualcuno Si è dimenticato Di quello che ho detto Eh Allora Vediamo gli ultimi Commenti Se c'è qualche domanda Poi Allora Sono forte Come l'aceto Spero almeno Quello balsamico Il più buono Quello di Modena Quello vero L'aceto vero Giuseppe 27 Non 72 Ok Perfetto Leonardo Paolo Ciao Tony Piera Ma 27 Bravissima Piera Allora 45 Composizione Non l'ho scritto Ho l'abitudine Eccomi qua Bravo Ho fatto bene Perché ogni tanto Poi mi perdono Come al solito Sovente mi perdo Le posizioni sono La seconda E la terza Quindi Due Seconda E Terza Posizione Per chi vuole giocare Il determinato Ok Me l'ho dimenticato Bravissimo Bravissima Stefania Allora Gli ultimi saluti Margherita Ciao Grazie Silvia Ciao Vincenzo Ha dato esit Bosia A partire D'agosto Sì Assolutamente Io però Ho segnato Gli ultimi mesi Perché nei mesi precedenti Non mi ha dato l'ambo Invece negli ultimi mesi Ha dato l'ambo Si lo so Vincenzo Io le faccio Sempre lunghe Poi le faccio vedere Gli ultimi mesi Ma funzionano anche Da prima Solo che Non ha senso Fare una svalangata Di roba Tanto l'importante Sono i risultati Che danno Le tecniche Dolores Ciao Rosaria Ciao Dal Salento Ciao Da Cuneo Rosa Ciao Ronni Mirella Dimmi Ti ringrazio molto Di tutto Se andate a te La tua famiglia Grazie di cuore Anche a te Stefania Grazie a voi Paolo Sì Paolo Si possono rigiocare Le tecniche Perché Diciamo che Conviene fare Adesso poi Ve lo dico Faccia faccia Ciao Biagia Così ci salutiamo Allora Ed è che Il sommatorio Funzionano solo Per un periodo E questo lo sapete Tranne qualche caso Particolare Ci sono anche Tranne che poi Nel tempo Chiaro Non possono dare Tutti i mesi La vincita Però Se si va a vedere Negli anni indietro Bene o male Nell'arco dell'anno Su 12 giocate 12 previsioni Riescono a prendere Almeno 9-10 8 Quindi Tutto sommato Ci sta ancora No Non è che Cessano proprio Completamente Di funzionare Hanno dei periodi Su e giù Però Insommato Qualcuna Sì Qualcuna No Questo Non possiamo Saperlo La statistica È sempre Una statistica Retroattiva Quindi Non possiamo Ma questo vale Sia per le tecniche ciclometriche Matematiche Come per le sommative Non montiamoci Poi la testa Perché ci sono Anche tecniche ciclometriche Che funzionano bene Per un periodo Poi anche dei periodi Di morta Ci sono anche dei periodi In cui Una tecnica Che magari In quell'anno Nei due anni Anche statistica Ha funzionato benissimo Una tecnica fantastica Poi Sbaglia anche Le due Tasi giocate Di seguito Non garantiamoci mai Che la ciclometria O la matematica O eccetera Siano una certezza E qui certezze Non ce ne sono Non ce ne saranno mai Ok Le sommative Sono quelle più semplici Alla portata Di tutti Perché non chiedono Una cultura matematica Di un certo livello Che neanche io Spariamoci chiaro Ok Che neanche io Posso essere Un po' più allenato Della maggior parte Di voi Perché sono 35 anni Che faccio tecniche Che studio Il campo estrazionale Però Non sono Qui professori Non ci sono Perché i professori Fanno altro Non danno i numeri Solitamente Fanno i professori Quindi Però Non ci sarà mai Questa certezza Allora Riguardo le sommative Funziona così Finché la tecnica Dà tutti i mesi La vincita Valla appena Riproverà a giocare Al mese successivo Appena dà un esito Negativo Conviene Fermarsi per un mese E controllare Se ricomincia a funzionare O se Anche il mese successivo Quindi per due mesi Non dà la vincita Com'è in aspettare Se uno vuole Che ricominci a funzionare Altrimenti Io vi regalo Tecniche Tre volte alla settimana Ad ogni estrazione Quindi non vi mancano Assolutamente Le giocate Le tecniche Ok Quelle che potete Utilizzare Per cambia La tecnica Ciclometrico Matematica Ha la possibilità Visto che ogni estrazione Ricava delle previsioni Di utilizzare Di utilizzare Un discorso Di convergenze Può essere utilizzata In modo diverso Può anche essere Migliorata Parliamo di tecniche Storiche D'autore Come si possono chiamare Dei famosi Fabari Antonio Longo E eccetera eccetera Chi più ne ha Più ne metta Che sono state Modificate Rimodificate Stramodificate Negli anni Cioè Le famose Quadrature Con le trazine simmetriche Con i diametrali Somme Distanze Chi più ne ha Più ne metta Negli anni Sono state Rigirate Come un'insalata Avanti e indietro Da tutti gli autori Ok Ok Poi Molte volte Anche quel rigirare Con dei calcoli Agucinanti Portano sempre Al risultato medesimo Che è sempre il solito Perché tanto Bene o male La quadratura è quella Non ci si può inventare Chissà che cosa Ok Ma poi di questo Da settembre Ne riparleremo Ci saranno poi Delle novità Delle belle sorprese Su questo Facciamo passare l'estate Sfugatevi Fatevi le ferie Se potete Rilassatevi Godiamoci questo Tra virgolette caldo Poi quando ricominciare La normalità Scuole Tutto il resto Ritorniamo A quel solito Routine Di tutti i giorni Vedremo poi Che cosa Sto preparando Per voi Che sto preparando Qualcosa di importante Quindi Non mancate di seguirmi Allora Chiudiamo ancora L'ultima cosa Grazie 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 Tre volte Ve l'ho detto Ma ve lo dirò All'infinito Siamo a 6.000 iscritti Ormai Quindi La prossima settimana Aggiudicata Ci saranno Come sapete Super regali Super promozioni Che sto preparando Per chi mi ha contattato In questi giorni Per fare gli abbonamenti Eccetera Quindi ci saranno Delle grandi Grandi Grandissime novità E Dei super regali Sia per chi mi segue Sulle dirette Come voi Anche per chi è abbonato Quindi Regali per tutti E alla prossima settimana Devo ringraziarvi Per questi 6.000 iscritti Perché continuate a seguirmi Siete veramente Meravigliosi Grandi E continuo a ripetervi Questo è in assoluto Il nostro canale Non è il mio canale Ok È il nostro canale Ultima piccola parentesi Tranquilli eh Non prendetela come Che continua A far commenti cretini Tra virgolette Lo dico Perché Ci può anche stare Può continuare All'infinito Tanto non gli rispondo L'ho già detto Migliardi di volte Su questo canale Non voglio assolutamente Polemiche Voglio solo persone positive Che hanno voglia Di divertirsi Quando vinciamo Siamo contentissimi Ma dobbiamo divertirci Quindi A chi non gli piace Può cambiare il canale Come fa col televisore Tranquillamente Tutte le serie Quando guarda la tv Ok Tranquillamente Non è obbligato a seguirci A seguirci Perché segue me come voi È il nostro canale È il nostro gruppo È un qualcosa Che stiamo creando insieme Che continua Tutto sommato Anche se sono piccole Vincite ogni tanto Suonare vincite Tutte le estrazioni E ripeto Ci divertiamo Tutti insieme Che la base primaria È questa Divertirsi La vita è già Così pesante Con tutti i nostri Problemi E queste cose Questo serve A rilassare un attimino Il cervello A godersi Un po' di tranquillità È Chiaro Io faccio Cretino In parte lo sono Anche per aiutarvi A smorzare un pochettino I problemi Della vostra vita Almeno ci provo Poi Mi auguro Di riuscirci Ok Allora Vi auguro Un buon weekend Una buona serata A voi e le vostre famiglie I vostri cari Un grande abbraccio Virtuale come al solito Mi raccomando Mi raccomando La vita è bella Eh Vediamocela Quando vi alzate al mattino Dite sempre tre volte grazie Voi non sapete Perché lo dite Ma è importante dirlo Ve lo garantisco Poi vi spererò Poi un giorno Perché sono tre le volte Che bisogna dire grazie Ok Ciao a tutti ragazzi Buon fine settimana Grazie a tutti Grazie a tutti